Prosciutto di Parma Ma lo sapete perché è così diverso, speciale? Perché prosciutto di Parma si nasce da suini selezionati. Perché la lavorazione è fatta alla maniera tradizionale e controllata in ogni fase fino a stagionatura ultimata. Ecco perché è così dolce, fragrante, inimitabile. Se volete un prosciutto così, chiedetelo per nome. Se dite voglio il Parma, devono darvi il prosciutto con questo marchio del Consorzio del Prosciutto di Parma. Grazie.